si dovrebbero licenziare da soli questi signori, perché voi, questi signori, hanno fatto un'opera che è contro i Sardi e la Sardegna, non a favore dei Sardi e la Sardegna, perché vale il punteggio tecnico, ma questo si sa da anni, lo sappiamo da anni e non è stato mai fatto niente, quindi io lo dico anche, è dispiaciuto di questa situazione e noi ne possiamo uscire, se cosa penso? No, perché se dicendo questo, no, non ne usciamo, anche se tu cercherai di mitigare le cose, vedrai che non ne usciamo, perché? Guarda, è indicativa una cosa, lo dico anche all'amico Arnaldo Boedo, che l'altro giorno sai che ci siamo confrontati con grande piacere, era la prima volta, no? E comunque il sindacato ha un ruolo istituzionale importantissimo, di rappresentanza. Voi dovete pensare che 20 punti su 40, che già sono scarsi così, pensa a cosa sarebbe stato 80 punti più 20, cioè 80 tecnico e 20 economico, ma vi rendete conto? Cioè il bando è tagliato per i vettori che devono dare un servizio scarci ai sardi.